La comunicazione è uno strumento indispensabile per promuovere comportamenti sostenibili e migliorare i risultati qualitativi e quantitativi di raccolta differenziata. Oltre alle attività di comunicazione con copertura nazionale, Comieco affianca i comuni in convenzione con diverse iniziative su base territoriale per migliorare la raccolta differenziata comunale e garantire un'informazione capillare. Due i principali obiettivi delle attività di comunicazione territoriale rivolti ai comuni in convenzione. Informazione e sensibilizzazione dei cittadini a fare più e meglio la raccolta differenziata di carte e cartone, sostegno per lo sviluppo del servizio e il miglioramento delle performance su base locale. Per questo Comieco e Anci concordano sull'opportunità di abbinare alla comunicazione ai cittadini anche attività di formazione per gli operatori. Diversi gli strumenti e i materiali di comunicazione che vengono sviluppati da Comieco e realizzati in collaborazione con comuni e gestori di raccolta. Tra le principali attività segnaliamo ad esempio eventi e manifestazioni locali rivolti sia alla cittadinanza nel suo insieme, sia a target specifici come ad esempio le scuole. Produzione di materiali informativi e di sensibilizzazione da distribuire sul territorio. Partecipazione di Comieco ad eventi o iniziative organizzate e promosse dai comuni in convenzione. Realizzazione di concorsi, mostre o altri eventi speciali. O ancora, supporto e collaborazione con i comuni in convenzione per la promozione di forme di controllo sull'utenza, al fine di garantire migliori standard qualitativi dei conferimenti.